Benissimo, sempre dal nostro primo album vi presentiamo una polca, Mangusta, da Elvio Rosini e Deglio Baldarelli. Eccoli qua, Mangusta, Polca! Questa è la coppia più bella di Romagna. Via! Questo motivo lo dedichiamo ai conici Farabegoli e agli amici di Cesena. Mangusta! 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 E' in partenza chi? Eccolo qua! Elvio Baldarelli! Delicato agli amici di Mila Pianta! Con simpatia! Ciao! Ciao! Eh! Allora, Burdella, gli è la grita questa o no? Sì o no? Ditelo voi! Eccolo qua! Grazie, grazie, grazie. Bravissimi, bravissimi.